Dieci candidati alla poltrona di sindaco di Bari, 34 liste e circa 1200 aspiranti consiglieri comunali. Se poi si aggiungono anche i municipi, la cifra di coloro che aspetteranno il verdetto delle urne sale a 3000. Alle 5 del pomeriggio nei corridoi di Palazzo di Città torna la calma dopo una giornata convulsa per la presentazione delle liste. Ufficialmente il termine era alle 12 ma per smaltire tutti coloro che si sono presentati entro mezzogiorno c'è voluta qualche ora in più. Antonio De Caro è appoggiato da 13 liste, 2 portano il suo nome mentre un'altra mette insieme pensionati invalidi e giovani. Di Paola ne ha 10, è rimasto fuori il partito dei lavoratori e dei pensionati che non ha potuto autenticare per tempo le firme. Con la di Geronimo si sono schierate 4 liste, una ciascuno per gli altri candidati Luigi Pacione, Marco Cornaro, Stefano Miniello, Giacomo Petrelli, Sabino Mangano, Michele Ladisa e Matteo Magnisi. Presentate anche le previsioni di spesa dei candidati, 325 mila euro per Di Paola, 219 mila per De Caro, quasi 50 mila per la di Geronimo. Passando ai municipi le liste salgono a 47 ed è qui che c'è una delle novità. Nella coalizione di Paola Cristiano Cippone che si definisce involontaria protagonista della definitiva unione nel centrodestra barese ha dovuto far posto alla candidatura di Aldo Iannone del nuovo centrodestra nel municipio di Poggio Franco. Grazie a tutti.